Oggi vi mostreremo tutti i top coat della linea Lafam. È formata da tre tipologie di top differenti, i tonalizzanti, gli shimmer e anche i classici. Il lucido, con l'effetto eye gloss disponibile con dispersione e senza, e l'opaco dall'effetto velvet. La loro versatilità li rende adatti a tutti i sistemi, semi permanente, gel, acrygel e anche acrilico. Hanno una media densità e non facilita solo la stesura, ma ci permettono di sigillare le nostre manicure senza creare inspessimenti o rovinare le strutture. Oltre ad avere questo effetto eye gloss e velvet, sono anche duraturi garantiti anche oltre le quattro settimane.